Hola io sono Marcus Grohl e signore e signore ben tornati in una nuova puntata da Spacecraft e nell'ultima puntata siamo riusciti a fare questo cosotto qua che adesso è auto alimentato con l'energia solare ho fatto due advanced solar panel, c'è una batteria e adesso si alimentano da sole e quindi abbiamo qui un sacco di cosine tra cui il cibo di patate detradate non so dirlo, non so dirlo però non ho fame e oggi visto che ogni tanto avevo promesso che avremmo fatto perché non vi funziona più il coso, eccolo qua che avremmo fatto una puntata di esplorazione, una puntata di crafting, roba tecnicosa signore e signori andiamo ad esplorare un altro pianeta del sistema solare a noi disponibili per il tier 2, salute quindi il fuel c'è, premiamo Space e la si parte allora, abbiamo qui il maledettissimo Mercurio Venus, Venus ci manca e Marte, quindi facendo Venus ragazzi abbiamo fatto tutta la fascia interna agli asteroidi andiamo su Venere tu, 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 eh, un mondo piccolo eh, sto, sto, sì, salve uh, che diavolo what the fuck è quello sì, permesso vorrei scendere dai palloncini ragazzi, mettiamola che diavolo un villaggio un villaggio di, 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 di Venusiani con degli alberi va bene e ci sono gli extraterrestri ma che cazzo stai dicendo ehi là hanno il super testone ehi là e sì siete bruttissimi ragazzi siete davvero un rebondi uh, la birch che strana gravità che c'è su uh, altri tipi di alberi grazie, grazie, grazie molto gentili però peccato che non hanno uh, e questa che cos'è? è l'ana nera questo è clay? oh no, accidenti peccato che non hanno la gui dell'interfaccia cia 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 lui sta tentando di salire qui povero ciccio magari gli diamo una mano upela buongiorno salve, come sta? ok, allora io direi che qui va bene per fare la nostra abbostazione di ritorno a casa perché non possiamo usare il razzo oh cazzo il razzo sta lì dentro non mi sono scordato non mi sono scordato il razzo non posso metterlo mio signore vediamo se posso metterlo qui perfetto gli RF stanno arrivando come se non ci fossero domani noi prendiamo il cavo e portiamo tutte quante cose qui e ci mettiamo prima aspetta aspetta Marcus Crone stai calm prima mettiamo la batteria ok poi mettiamo questo e visto che vogliamo fare le cose super bellissimissime facciamo così facciamo così scendiamo di uno anzi no rompiamo qui e qui scendiamo di uno hopperà 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 e hopperà e pam 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 fantastico chiudiamo ottimo lavoro se non sbaglio c'è una gravità aumentata e dial matter receiver matter transmitter e qui chiudiamo con questo vediamo un po' allora questo qui lo chiamiamo venere e sta arrivando un sacco di energia allora venere no aspetta 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 questo qui lo chiamiamo venere lo stesso eccolo qua questo allora questo diventa casa casa quindi casa si linka a luna dial perfetto l'energia c'è qui possiamo chiuderlo sta arrivando yes maraviglioso io direi di tornare a casetta funziona ragazzi funziona qui c'è un somilla nascosto chiedetemi perché non lo so questi non si attaccano accidenti non si attaccano quelli rossi merdissima andiamo a vedere se possiamo fare un'eccezione vediamo se ce ne abbiamo degli altri eccoli qui perfect allora io direi di togliere questo mettere il mettere questo qui che si chiama venere esci perfetto e collegare venere con venere dial perfetto e qui mettiamo il ciccio rice ciccio arriva ciccio arriva che però dobbiamo collegare ok adesso dovrebbe avere tutto ragazzotti vediamo un poco proviamo a ritornare su venere teletransportation et voilà et voilà le jesunfi ragazzi molto bene allora dov'è il palloncino il palloncino è di là uuuuh guardate come si muove in maniera inconsulta c'è una gravità assurda qui ecco uh me l'ha ridato il launch patch 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 e voglio assolutamente scoprire che cos'è che diavolo è questo ammazza se sei duro fio mio venus dungeon brick è come quello di mercurio però è straduro oh merda secca che diavolo è quello ehi là eh salve ok si rompono non so che cosa facciano merda e mo finito ah rega è finito il done che cos'è questo è un venus color e questo è un sulfur è un sacco di sulfur e questo sempre coal da quando è qua il coal è blu boh non lo so che strano merda cavolo è tipo ma non c'è nient'altro ho mandato un attimo a far culo la registrazione perché la quel dungeon è vuoto ho scavato per un poco non ho trovato un cazzo di niente quindi ci sono rimasto un po' male non volevo annoiarvi o tediarvi l'unica cosa è che forse 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 c'è una meccanica di queste uovette interessante che fortunatamente devo dire per la mia volta fortunatamente ho il posso dire fortunatamente ho il jetpack vediamo un po' oh my gosh oh ma che siete impazziti ma 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 ah oh 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 ah maledetti ah maledetti maledetti non mi prendete non mi potete prendere se sto nel cielo merda oh no 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 fammi tornare a casa fammi tornare a casa ti prego no io torno a casa regà ah regà oh come l'altra volta no 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 ok ho ripreso tutte le nostre cosettine e sono uscito dalla creativa credo si vediamo un po' che cos'è questa zona qua ci stanno sti cacchio ah no qui è cascato un meteorite venusario vediamo se è diverso da quello della luna oppure no ma credo sia uguale eh no è diverso ragazzi no è uguale accidenti accidentaccio qui c'è il coal questa cosa oh mio dio si sono sovrapposti che cosa sta a significare cazzo quanto è lento il meteorite a rompese cazzo rola quanto sei lento fio fio olle si 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 è tutto uguale allora come ultima cosa da fando su venere perché anche in questo caso lì c'è della lava lì c'estano altri meteoriti volevo dare una scavata un po' approfondita ah io maledetto Alfredo che te fai male da solo quindi f5 e la si scende per vedere l'effetto che fa coal or proviamo intanto vediamo a che altezza stiamo stiamo a 67 ok ningu problema non mi sembra che vi ho visto mob ostili però può darsi perché è semplice del giorno e io già sono pieno no prendiamo la robetta uh già sono pieno tint decoration block lo leviamo venusaur bau 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 qui abbiamo del sulfur di merda che non ci interessa diamo un'occhiata a quello che ci dà sta roba ci dà ci dà ci dà niente mentre questo ci dà il silver il lid e il lithium 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 l'atio tra l'altro mi sono scordato di scavare proprio direttamente dentro oh merda questo che cos'è che cosa sei cosa caspiterina sei ragazzo perché no non c'è la guai là si che c'è no visibile ecco qua questo è copper coppere 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 io sto spaccatutto adesso inizierà a laggare però non abbiamo dei risali oh merda lava 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 sono i penici viscimo facciamo così andiamo a casetta cioè casetta provvisoria oh aspetta aspetta è vero non c'ho chest mi servirebbe oh è vero adesso che c'ho la farm di cioè non c'ho la farm di ender pearl però comunque adesso le posso consumare ah tra l'altro mi ha droppato due cose come si chiamano un ender lily mi ha droppato oh leviamo le mele che ce n'ho tantissime due ender lily quindi adesso ce l'abbiamo due lì affandosi facciamo così 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 ed ecco la nostra cestolina oppela fantastico vabbè la piazzo qui chi se ne frega della musica e riscediamo del buco della morte eccolo è il buco della morte no dai non lì merda di nuovo oh 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 ma perché regà perché ma perché sono così stronzo ma più che altro non mi va di mettere l'inventory keep ma mi dovresti far ritornare sull'ultimo punto della dimensione cioè quando io muoio nel nether vado nell'overworld dove c'è il mio letto e tu dovresti farmi andare nel mio letto così io vi posso mettere le cosine e dai però chiudiamo perché il cartello ti finisce a merda ok e sta via non mi piace proprio entrare in creativo e fa ste cosine però roba termica roba termica roba termica e ok abbiamo tutto fantastico usciamo dalla scrytiv e via io mi mangio un po' di questo e riscendiamo giù op op mmm 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 pagliura ragazzi pagliura abbastanza pagliura questo che cos'era iron tin niente di raro e prezioso mortacci tua tin sulfur no 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 mamma mamma mia ragazzi posto pericolosissimo questo venere uuu i rubini i rubini per noi attenzione battaglione no no brutta lava cattiva eccoli qua rubior ce sono altri rubior che ci danno i rubini con cui fare le cose di rubino incredibile beh ragazzotti questa questa è venere non è niente di che noi ci vediamo la prossima nottana bella la prossima nottana